signore e signori buon ferragosto a tutti da me è Omar adesso Omar ci farà vedere come si fa canestro ok Omar vai vai a prendere la palla bravo bravo Omar dai fai un altro canestro fai un altro canestro bravo dai bravissimo ancora ok Omar vieni qua vieni qua qui Omar qui basta ora basta canestro ma stop ok vieni Omar vieni adesso mettiamo le monete adesso mettiamo le monetine il gioco che lui già sa fare benissimo vediamo se trovo le monete le ve le appoggiate sei pronto Omar dai le monete uno mettono due le prende pure al volo eh vai Omar vai bravissimo vetti bravo un applauso a questo bravissimo uccello adesso facciamo un altro canestro ma un ultimo canestro e poi via dai bravo vai ancora un altro dai 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 un altro canestro un altro canestro vai bravissimo bravissimo grande bravo 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 Omar bravo 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 bra